Zanichelli, osservare e capire le scienze di 2.7 come pari alla pressione atmosferica fattori che influenzano la pressione atmosferica sono tre e sono l'altitudine, l'umidità e la temperatura. Con l'altitudine abbiamo due cause che causano una diminuzione della pressione. Innanzitutto diminuisce l'altezza della colonna d'aria sovrastante rispetto al luogo in cui ci troviamo e inoltre viene a mancare la parte più bassa dell'atmosfera che è quella che ha una densità maggiore. Quindi gli stati più elevati hanno densità minore e vanno a formare la colonna d'aria sovrastante, l'aria che è sotto ha una densità maggiore e viene a mancare. Quindi in questo modo diminuendo l'aria diminuisce il peso di questa colonna e diminuisce la pressione. Allora l'umidità, le molecole di valore acqua hanno un peso minore che quello degli alti grassi atmosferici, come approfondiremo in seguito andando più avanti in questa lezione. Per il momento ci rimettiamo a dire che se delle cose più leggere sostituiscono delle cose più pesanti, si ha che l'aria umida avrà una pressione minore di un'aria secca. Perché? L'aria secca ha una densità maggiore dell'aria umida perché contiene molecole più pesanti. L'aumento della temperatura causa una dilatazione termica dei corpi. Se diminuisce si è il fenomeno contrario. Quindi se noi riscaldiamo un gas, questo si dilata e dilatando si aumenta di volume, ma la massa rimane costante, perciò se vado a fare massa fratto volume la sua densità diminuisce. Se si raffredda questa massa d'aria si contrae, diminuisce il suo volume e la densità aumenta. Questo succede perché il volume è al denominatore, quindi densità è uguale a massa fratto volume, quindi sta al denominatore. Se il denominatore diminuisce il valore del rapporto cresce. Se il denominatore aumenta il valore del rapporto diminuisce. Quando un'aria si riscaldala quindi la sua pressione contenderà a diminuire. L'aria fredda, la pressione aumenta. Quindi, per il motivo che abbiamo detto prima, la stessa massa d'aria viene attratta dalla terra, avrà lo spesso preso. Se si riscalda la massa si dilata e diminuisce la densità e quindi diminuisce il peso per unità di volume. Se la colonna d'aria si raffredda, si contrae, aumenta la densità e aumenta il peso per unità di volume. La temperatura ha un doppio effetto sulla pressione. Se aumenta, aumenta, se aumenta si ha una dilatazione dei gas, ma anche la quantità di vapore acqua che può contenere prima di arrivare al punto di ruggiata. Quindi, influenza due volte sulla pressione. Una perché dilata i gas, una perché gli permette di contenere una maggiore quantità di volevole di acqua. Andiamo a vedere il peso delle molecole. Perché abbiamo detto che diminuisce di peso? Perché facciamo adesso un piccolo escursus in quello che sarà il programma della seconda media. Però andiamola a vedere. Per eliminare il peso delle molecole si somma i pesi asintomici di ciascun atomo che va a costituire la molecola. Nel nostro caso, per fortuna, gli atomi da prendere in considerazione sono pochi. Avremmo che l'idrogeno, che per definizione viene preso, pesa uno perché viene preso come riferimento. Il carbonio pesa 12, cioè 12 volte l'idrogeno. L'azoto pesa 14, cioè 14 volte l'idrogeno. L'ossigeno pesa 16, 16 volte l'idrogeno. Prendiamo anche in considerazione l'argono che pesa 40 volte l'idrogeno. Quindi abbiamo questa situazione. Con questi possiamo vedere il peso di ciascuna molecola. Questo qui vediamo la tavola periodica degli elementi. Di questa tavola periodica prendiamo in considerazione l'idrogeno che, come vediamo, pesa uno. Il carbonio che pesa 12. Vedete l'azoto mi dice che pesa 14. L'ossigeno mi dice che pesa 16 e l'argono che pesa 40. La molecola di acqua contiene due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Per cui avremo due per uno, che è il peso molecolare dell'idrogeno, più 16, cioè 18. La molecola di acqua pesa 18. L'azoto, invece, è fatto a due molecole da due atomi uguali di azoto, che pesa 14. 2 per 14 è 28, quindi già la molecola di azoto pesa molto più dell'acqua. A maggior ragione l'ossigeno sarà 2 per 16, cioè peserà 32. E l'anidride carbonica addirittura pesa 12 per 2 per 16, cioè 12 più 32 è 44. Quindi la molecola di acqua, che pesa 18, può sostituire una molecola di azoto che ne pesa 28. Una di ossigeno pesa 32, che sono i gas più abbondanti. Poi una di argolo che ne pesa 40 e una di anidride carbonica che ne pesa 44. Quindi questo fa sì che il peso dell'aria umida sia minore del peso dell'aria asciutta. Per determinate condizioni il numero di particelle del gas è costante, quindi non è che l'ingresso di una molecola può aumentare la quantità di gas presente. Nell'unità di volume avremo che sarà sempre uguale. È una cosa che voi farete alle superiori, non lo faremo più neanche nella media. Quindi l'ingresso di vapore acqua non è che aumenta la quantità di molecole che ci sono, ma costringe nel mio metro cubo di aria alcune molecole pesanti a uscire fuori e il peso dell'aria tenderà per forza a diminuire. Bassa e alta pressione. La pressione sulla Terra non è costante, perché le condizioni di temperatura e abidità variano nei vari luoghi del pianeta e di conseguenza la pressione in una determinata zona varia in continuazione in funzione di questi due parametri. Si ha una zona di bassa pressione ogni volta che in una data zona c'è una pressione più bassa di quella delle zone circostanti. Si ha un'alta pressione ogni volta che una zona ha una pressione più alta delle zone circostanti. Quindi non c'è un valore di riferimento per dire se una pressione è alta o bassa. Questa pressione non c'è, ci dobbiamo assegnare, perché il concetto di alta e bassa pressione è un concetto relativo. Un concetto si dice relativo se fa riferimento a qualcos'altro. Quindi in questo caso alle zone circostanti e non valore di riferimento. Un valore di riferimento, per esempio, qual è il valore di riferimento? Un valore di riferimento, per esempio, alle condizioni normali, la pressione è di 1013 millibar. Questa è la pressione alle condizioni normali, cioè alla temperatura di 0 gradi, alla latitudine di 45 gradi e al livello del mare. ma non è un punto di riferimento per stabilire se una pressione è alta o bassa. Ma l'unico punto di riferimento sono le pressioni delle aree circostanti. Per rappresentare la pressione atmosferica si fa riferimento alle isobare. Queste isobare sono linee ideali che chiuse, che uniscono zone che hanno lo stesso valore di pressione. In questo modo all'interno delle linee la pressione sarà più alta di quella segnata dall'isobare, all'esterno della linea sarà più bassa di quella segnata dall'isobare, nel caso delle alte pressioni. Nel caso delle basse pressioni succede il contrario. Vedete? La linea 2008 rappresenta una zona di… mi dice che questa linea unisce tutte le zone di alta pressione. Al di sotto la pressione è più alta, al di sopra è più bassa. Ma se io prendo questa isobare 2096, che va a circondare una zona di bassa pressione, mi dice che all'interno la pressione è più bassa e all'esterno è più alta. Le frecce indicano la circolazione dei venti e mi dice che i venti nell'alta pressione circolano in maniera… con modo orario. In una bassa pressione circolano con modo anti-orario. E i venti si spostano dalle zone di bassa pressione alle zone di alta pressione. La pressione atmosferica è un dato che possiamo misurare nelle stazioni meteo. La pressione dipende da fattori geografici e meteorologici, ovvero dall'altitudine, dalla temperatura e dalla quantità di vapore acqueo presente nell'aria. Vediamo perché. Ad altitudini elevate, la colonna d'aria che grava su una superficie ha un certo volume, pieno di molecole, e ha un peso, e dunque sviluppa una determinata pressione. Ma se ci spostiamo ad altitudini minori, per esempio a livello del mare, la colonna d'aria che insiste per unità di superficie è più alta e dunque contiene molte più molecole. Un numero maggiore di molecole ha anche un peso maggiore, che si traduce in una pressione più alta rispetto a una località montana. La temperatura influisce sulla pressione. È lo stesso meccanismo che agisce sull'aria scaldata da un fornello. L'aria calda si espande e diventa meno densa, quindi più leggera, e sale verso l'alto. Quando si raffredda, la densità aumenta e l'aria, divenuta più pesante, ricade verso il basso. L'aria calda dunque esercita una bassa pressione. L'aria fredda, invece, produce alta pressione. L'umidità influenza la pressione perché l'aria umida pesa meno dell'aria secca. Il vapore acqueo, infatti, fa diminuire la pressione perché le molecole di acqua sono più leggere di quelle di azoto e ossigeno, i due principali componenti dell'aria. A parità di volume, l'aria secca contiene un numero maggiore di molecole di azoto e ossigeno, che rendono l'aria più pesante e dunque ne aumentano la pressione. Fini. 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 Fini.